bene grazie Paolo grazie per l'introduzione e buongiorno a tutti e grazie grazie per essere venuti. Oggi come ha detto Paolo vi parlerò di Kubernetes e di che vantaggi può portare nell'orchestrare e gestire i servizi aziendali. Prima di tutto vorrei parlare del contesto in cui introdurre Kubernetes. Il contesto è quello di piattaforme multicanale con tanti touch point e moltissimi utenti coinvolti che generano traffico all'interno della piattaforma. Si parla di sistemi con tante tecnologie eterogenee e integrate non solo tra di loro ma anche con i sistemi legacy sottostanti. Per gestire questo tipo di sistemi si parla spesso di processi, organizzazioni e tecnologie che convergono negli ultimi anni in questa terminologia. Per gestire la complessità quindi vediamo come i container e Kubernetes aiutano a gestirla. Partiamo dai container. Se pensiamo all'installazione tipica su macchine virtuali, pensiamo ad esempio a degli applicativi Java, normalmente noi prepariamo i nostri server installando prima di tutto librerie ed eseguibili che servono all'applicazione per funzionare e dopodiché potremo installare la nostra app. Volendo scalare orizzontalmente la nostra applicazione dobbiamo prendere il secondo server macchine virtuale, installare nuovamente, quindi fare il provisioning di librerie eseguibili e finalmente installare la nostra app. Cosa ci permettono di fare i container? I container ci permettono di isolare tutto quello che serve all'applicazione per funzionare, inserire questi due strati appunto in un container e invece che considerare la nostra applicazione come degli strati da preparare, la possiamo considerare nel caso di Java per esempio come un unico processo indipendente dal sistema operativo da eseguire dove? Da eseguire su un cluster di server con un container runtime installato sopra. Che implicazioni ha questo? Significa che se io voglio installare la mia applicazione posso prendere il mio container e installarla sul primo server. Posso anche replicarla con un paradigma lift and shift si chiama e portarla in modo trasparente sul secondo. Posso anche replicarla, quindi sfruttare in modo denso le risorse del server e soprattutto ho una tecnologia che mi rende le applicazioni e il deploy queste indipendenti dalla tecnologia scelta. Quindi indipendentemente dal linguaggio di programmazione che ho scelto per installare e sviluppare la mia applicazione, i container mi permettono di fatto di avere il sistema ideale per il packaging e la distribuzione dei miei microservizi. Quindi i vantaggi quali sono? I container sono indipendenti dal sistema operativo, non lo contengono e sono molto più leggeri delle macchine virtuali, soprattutto quando si parla di portabilità e scaling. Sono isolati, questo garantisce sicurezza nell'isolamento dei processi se configurati correttamente, sono immutabili e portabili, il che evita il problema classico del funziona sul mio computer ma in produzione crea problemi. Lo stesso container può essere portato dal laptop di uno sviluppatore fino a un cluster di produzione in cloud. Ora vediamo, i container non sono abbastanza. Perché non è abbastanza? perché mi serve un modo per gestirli nel momento in cui io arrivo alla produzione. Vediamo il contesto qual è. Ho una persona, sviluppatore o sistemista che sia, che si occupa di gestire questo cluster che inizialmente è in questa configurazione. Quindi vediamo un container java, un container javascript e due container go. Questa è la configurazione iniziale. Mano a mano che l'infrastruttura evolve potrei avere necessità, prima di tutto, di scalare orizzontalmente un container. Gestire il caso in cui il container si rompa e quindi deve esserci qualcuno che deve provvedere a replicarlo su un'altra macchina funzionante e dove ci sia spazio soprattutto. Può anche succedere che si rompa il server su cui sono ospitati i container. Quindi di nuovo i container ospitati devono essere spostati. Non ultimo, la gestione del traffico in ingresso. La gestione del bilanciamento tra i container, il traffico che arriva dai nostri utenti ai container e di come questo venga bilanciato tra gli applicativi e le diverse istanze dei miei processi all'interno del sistema. Per fare questo è chiaro che non può essere gestito da una persona. Ho bisogno di qualcuno, o meglio qualcosa, che orchestri tutte queste possibilità, tutte queste situazioni in modo automatizzato e Kubernetes fa proprio questo. Kubernetes è un sistema open source per automatizzare deployment, lo scaling e il management di applicativi containerizzati. Di fatto Kubernetes mi permette di astrarre dall'infrastruttura, come vediamo tra poco, e di gestire i container in maniera molto efficace e che mi permette di muovermi in un modo molto veloce. Vediamo cosa vuol dire. Allora, torno alla slide con il mio cluster di server. I miei nodi del mio cluster diventano nodi Kubernetes. Quindi posso preparare il mio cluster perché ospiti cosa? Un cluster Kubernetes. Cosa vuol dire avere un cluster Kubernetes? Vuol dire avere un ambiente trasparente che astrae dall'infrastruttura su cui io posso installare i miei container. Parleremo dopo della differenza tra master e worker. All'interno del mio cluster Kubernetes io ho disposizione dei namespace. I namespace sono, possiamo vederli come dei cluster virtuali con cui da utilizzare per suddividere in maniera logica il mio cluster. Per esempio, possiamo usare namespace per avere diversi ambienti dal testing alla produzione. Possiamo usarli per separare applicativi che hanno qualcosa in comune tra di loro. Oppure per regolare l'accesso di chi opera sul cluster, quindi sviluppatori e operatori, al cluster. Quindi, per esempio, posso dare accesso a qualcuno, a un team, a un determinato namespace, ma magari proibirlo ad altri. E questo mi permette di avere più controllo sull'accesso alle risorse del sistema. In namespace sono anche il punto in cui vanno installati i pod. Perché non ho detto container? Perché in Kubernetes la più piccola unità deployabile sono appunto i pod. Che cos'è un pod? Un pod non è altro che un contenitore di container. Mi aiuta a raggruppare i container. Solitamente si ha a che fare con due tipi di pod. La versione più semplice è un pod che contiene un container, in questo caso vediamo il container Java, che è la mia applicazione che deve funzionare all'interno del cluster. Nella versione più complessa e anche più avanzata, ma che può presentare notevoli vantaggi in produzione, è la versione con un container Sidecar. Il container Sidecar aiuta il container principale applicativo per operazioni infrastrutturali come il caching, come il proxing e altre operazioni non strettamente legate al processo principale, ma che possono aiutare l'intera applicazione a funzionare in modo integrato e soprattutto governabile. Ora, capito i fondamenti fondamentali di Kubernetes, una cosa importante di questo slide è che qualcuno si potrebbe chiedere ma dove finiscono fisicamente i container iPod. Il bello di Kubernetes è anche questo, è il master, un nodo orchestratore che decide dove spalmarli, dove schedularli e fare in modo che il carico sia gestito in modo corretto. Quindi come operatore di Kubernetes e sviluppatore non mi interessa sapere dovevano finire all'interno del cluster. Per vedere le funzionalità base, soprattutto dal punto di vista dello sviluppo di Kubernetes, ho preparato una dimostrazione in cui mostrerò molte delle operazioni tipiche che ci sono da fare durante il ciclo di vita di un'applicazione. Per questo esempio abbiamo preparato questo servizio Java, scritto in Spring Boot da noi, che si occupa di ricevere da un utente una richiesta di generazione reportistica. Questo servizio Java riempie il report con i dati dummy al suo interno, lo passa a un secondo container scritto in Go che si occupa di convertire il documento docx in un documento PDF. A questo punto il report service Java potrà restituirlo all'utente. Ora vediamo passo per passo come costruire questa architettura in cui sono presenti di fatto due microservizi che hanno due scopi diversi e vedremo come il processo che occupa più risorse, cioè quello che converte il docx in PDF, all'aumentare delle richieste utente scalerà automaticamente per rispondere a un picco di carico. Allora per prima cosa dobbiamo installare all'interno del cluster il nostro PDF service, cioè il container Go. Per questo slide ho spostato il master al centro perché il master ha una funzione fondamentale che è quella di assicurarsi che lo stato del cluster rimanga in una condizione stabile e efficace per tutto il ciclo di vita dell'applicazione. È quello che si occupa del fatto ad esempio che se un container all'interno del cluster si rompe si occuperà automaticamente di ripristinarlo. Il master è collegato anche un docker registry che è dove fisicamente finiscono le immagini docker alla fine, le immagini, i container alla fine del ciclo di build. Cosa vuol dire fisicamente installare un servizio? Solitamente definiamo con Kubernetes un file in cui descriviamo lo stato che desideriamo per il nostro servizio. In questo caso voglio una replica di un container docker che si chiama Gothenberg che è un progetto open source che serve appunto per convertire diversi formati in PDF e ne vogliamo una replica all'interno del cluster. Per fare questo usiamo alla base, questa è una funzionalità base che poi può essere ovviamente estesa in ambienti di produzione e in ambienti dove non vogliamo scendere più così a basso livello. Utilizzo la cli di Kubernetes che mi permette di applicare le mie modifiche all'interno al cluster. Cosa vuol dire? Che il master a questo punto andrà a prendere dal registry il mio container e lo installerà come pod all'interno del cluster. La cosa importante di questa slide è il ruolo del master che riceve i comandi dall'utente o dal servizio automatizzato che deve installare i container e si occupa di mantenere lo stato consistente all'interno del cluster. Quindi ripeto il master è il vero orchestratore del cluster, mentre i worker sono dove fisicamente vengono schedulati i vari container e dove vengono distribuiti. Il secondo step di questa demo prevede il deploy del report service, cioè il servizio java scritto da noi. Analogamente a prima dobbiamo deployare un container, quindi installare questa volta un container diverso depositato sui repository di intesis, ma questa volta ne vogliamo due repliche. Analogamente a prima invio il comando Kubernetes e Kubernetes si occuperà di mantenere sempre il cluster in modo che al suo interno ci siano sempre due repliche del mio container. Quindi abbiamo visto come, modificando questo descrittore, di fatto è possibile descrivere lo stato di Kubernetes e scalare orizzontalmente un singolo container barra pod per rispondere eventualmente a un picco di carico. Questo però è fatto manualmente. Come faccio a scalare automaticamente il mio container nel momento in cui ho un picco di carico? Per spiegarlo introduciamo un nuovo componente che è il metric server. Il metric server è un componente che solitamente si trova all'interno di Kubernetes e permette di raccogliere metriche circa le performance e le risorse consumate dai pod e dei nodi del cluster. Una volta che ho a disposizione il metric server posso definire una policy di autoscaling all'interno. Cosa vuol dire? Dico a Kubernetes che voglio un autoscaler per un pod e quando è che voglio fare autoscaling? Quando il consumo di CPU del mio PDF service supera il 75%. Cosa succederà dopo che io ho inviato questo comando? Succederà che all'inizio, ah giusto, scusate, nel momento in cui il consumo di CPU supera il 75% Kubernetes si occuperà di replicare il container fino a un massimo di 5 repliche che è quello che ho scritto qui. Quindi nella situazione iniziale ho un container che fa poco ed è scarico. Quando inizia a aumentare il traffico il consumo di CPU aumenta, il master se ne accorge grazie alla sua collaborazione con il metric server e provvederà a scalare orizzontalmente il container per rispondere al picco di carico. La CPU è solo un esempio di metrica che si può legare all'autoscaling. Ci possono essere altri tipi di metriche relative per esempio al consumo di RAM o al fatto che una coda all'interno del cluster sia troppo piena e quindi debba essere svuotata il prima possibile. Questo è solo un esempio. Una cosa importante di cui non abbiamo ancora parlato è come il traffico e come i pod parlano tra di loro e come comunicano con l'esterno. All'interno di Kubernetes è possibile definire quelli che si chiamano service. I service servono a raggruppare tra di loro pod, container, che hanno caratteristiche comuni. Cosa vuol dire raggruppare dei pod all'interno di un service? Vuol dire dare a questo gruppo di pod un nome DNS e un IP unico all'interno del cluster, cosa che mi permette ad esempio se il report service Java vuole comunicare con Go, di poterlo invocare con un nome ben definito. Analogamente se voglio gestire in load balancing il traffico che arriva dall'esterno, quindi attraverso l'ingresso del mio cluster, avrò che tutto il traffico verrà bilanciato tra le due repliche del report service. Quindi il service di Kubernetes, inteso come oggetto, serve sia a gestire la service discovery, quindi quando aumentano le repliche del mio container verranno automaticamente trovate da Kubernetes, il traffico verrà bilanciato, sia come load balancing. Ultimo aspetto fondamentale per approcciare Kubernetes è come questo gestisce le risorse, o meglio come i pod non si calpestino i piedi tra di loro quando si tratta di consumare risorse hardware come la CPU e la RAM. L'abbiamo sempre visto ad alto livello fino ad ora, ma quello che succede veramente sui worker di Kubernetes è che i container vengono schedulati in modo automatizzato all'interno dei worker. Per controllare il loro consumo di risorse Kubernetes mi permette di definire un limite minimo e massimo di CPU per ognuno di questi container. Una volta che io ho definito questo limite sarà l'orchestratore a gestire il consumo di risorse, quindi potenzialmente io posso continuare finché la capacità totale del mio sistema me lo consente di portare nuove applicazioni e nuovi pod all'interno del cluster. Arriverà il momento in cui magari le risorse non sono più sufficienti, quindi come faccio ad aumentare la capacità totale del mio cluster? scalo orizzontalmente il worker. Aggiungendo un worker al sistema Kubernetes nuovamente gestirà questo nuovo membro del cluster e distribuirà il carico su questo nuovo nodo. Questo ha delle implicazioni fondamentali perché grazie a questo sistema io ho un utilizzo molto più controllato delle risorse, ho un utilizzo molto più flessibile perché posso partire con applicazioni piccole, con cluster piccoli e poi mano a mano che le esigenze della mia azienda cambiano posso aumentarne le capacità ed ho un utilizzo molto ottimizzato che mi permette di sfruttare al massimo le risorse che mi fornisce la macchina virtuale o fisica che fa parte del cluster. Veniamo finalmente all'esempio. Allora qui vediamo che con la CLI di Kubernetes sto elencando i pod, i servizi e gli autoscaler configurati all'interno del mio namespace API date. In questo momento è vuoto il mio namespace e non c'è nulla. Quello che devo fare è cosa? Andare a prendere gli YAML che abbiamo visto prima mentre presentavo le slide e applicarli, quindi invocare le API di Kubernetes per applicare queste modifiche. Quindi definire un nuovo stato che voglio per il mio cluster. Dopo aver applicato le modifiche vediamo che Kubernetes si sta occupando di rendere attivo il mio servizio. Cosa? Un pod per il PDF service, il servizio Go. Due pod per il report service e il servizio Java. I due service Kubernetes che si occupano di gestire service discovery e load balancing all'interno del container, all'interno del cluster e alla fine l'autoscaler. L'autoscaler che prevede che quando il PDF service supera un consumo del CPU del 75% potrà replicare le repliche del pod, che in questo momento è uno, fino al massimo di 5. Vediamo da qui che al momento ce n'è uno solo. In basso a sinistra mostrerò i log del report service e mostreremo come il traffico proveniente dall'esterno verrà bilanciato tra le due istanze del report service. A destra i log del PDF service. Il traffico arriverà dall'esterno, tra poco vedremo come, verrà bilanciato tra le due repliche del report service che invierà la richiesta all'unico container Go all'interno del cluster. Ora sto simulando un numero sempre maggiore di utenti che si incollegano al cluster per vedere cosa succede. Quindi faccio partire questo mini test di carico e vediamo che il traffico è in ingresso al sistema e che il traffico viene bilanciato tra le due istanze del report service e poi inviato al PDF service. In questo momento abbiamo una sola istanza del PDF service che ora vedremo passare al consumo di CPU del 6%. Lo vedete sotto la voce target della schermata centrale. A breve Kubernetes si accorgerà che il traffico in ingresso al PDF service e il suo consumo di CPU schizzerà al 180% circa, 150. E come vedete in alto, in questo momento ho tre repliche automaticamente gestite da Kubernetes che vengono scalate orizzontalmente e che mi gestiscono il traffico in ingresso al PDF service. Vediamo qui in basso anche, quando il colore del PDF service cambia, che qualche richiesta passa anche tra le nuove istanze del PDF service come adesso. Dopo un po' il consumo di CPU torna sotto il 75%. Quindi in questo momento Kubernetes avrebbe la possibilità di aggiungere altri due pod allo sistema ma non lo sta facendo perché il consumo è sotto controllo. Ora mi aspetto che il consumo di CPU del PDF service complessivo tra tutti i pod torni allo 0% e che quindi l'orchestratore si occupi di spegnere le repliche del pod che non servono più. Vediamo che in questo momento stanno terminando, vengono tolte dal cluster e, lo vediamo qui in basso, e il numero di repliche del PDF service che abbiamo in questo momento è una sola. Questa demo è stata un po' accelerata, dovrebbe durare 6 minuti, ma nei tre in cui è stata condensata è come di fatto in molto poco tempo Kubernetes si risponde a un picco di carico e gestisce out of the box lo scaling dei servizi. Ok, come c'eravamo lasciati all'inizio della presentazione? Avevamo parlato di gestire la complessità. Vediamo come Kubernetes si incastra con questa terminologia e come aiuta a gestire questa complessità in ambienti complessi distribuiti che devono evolvere velocemente. Parlando dei servizi e dei microservizi, grazie ai container ho di fatto disaccoppiato il mio processo dalla macchina su cui viene installato. Grazie a Kubernetes ho una strazione completa dall'infrastruttura. Ho anche visto nella demo nelle slide come di fatto molte operazioni che rendono complicata la gestione di servizi e sistemi distribuiti vengano di fatto fornite out of the box da Kubernetes e permetta veramente una gestione ottimizzata. Abbiamo visto l'auto scaling, abbiamo visto la server discovery e ci sono anche delle funzionalità a supporto dell'aggiornamento del deployment di nuovi applicativi e nuove versioni all'interno del cluster. Il rolling upgrade prevede di aggiornare gradualmente un'istanza di produzione in modo che gli utenti che stanno avendo del traffico verso queste istanze non percepiscano l'upgrade in corso. Le canary release che possono essere fatte col supporto di sidecar container che abbiamo accennato all'inizio dell'applicazione, mi permettono di avere due versioni diverse della stessa applicativa in produzione e decidere eventualmente di bilanciare solo una parte del traffico verso la nuova istanza, assicurarsi che tutto funzioni e poi ridiriggere in un secondo momento tutto il traffico verso la nuova versione. Quindi da maggior controllo per quanto riguarda l'evolvibilità e la gestione del sistema. Per quanto riguarda il DevOps, allora abbiamo un unico metodo per distribuire i servizi che sono i container. L'approccio dichiarativo di Kubernetes mi consente di fatto di adottare un approccio infrastructure as code, vuol dire versionare i file YAML che abbiamo visto e avere un'evoluzione del sistema controllata e definita e ben definita all'interno di questi descrittori che mi descrivono di fratto come è fatta la mia infrastruttura. I vantaggi di questo sono anche, se pensiamo, al continuous delivery, al continuous deployment. ho un modo controllato di gestire l'evoluzione del sistema e per deploiarla all'interno del cluster ho un unico modo che è applicare queste configurazioni versionate per deploiare tutti i miei applicativi. Ho anche una base per costruire un monitoring e avere un sistema osservabile. Per vedere nel dettaglio cosa intendo in questo punto vi invito a seguire il talk di Tommaso Moroni che parlerà di Elastic Stack e vedremo anche l'interazione di Elastic Stack col cluster e di come è possibile osservare il comportamento. Riguardo al cloud e cloud native, di fatto Kubernetes ha la caratteristica principale dei sistemi cloud native, è un sistema cloud native perché è scalabile, mi permette di gestire sistemi moderni, full tolerant e mi permette di evolvere le mie applicazioni in modo veloce sicuro, mi permette di iterare in modo frequente in quali ambienti, sia in ambienti privati, quindi private cloud, quindi anche cluster Kubernetes gestiti internamente all'azienda e trasparentemente soprattutto per i servizi stateless portare i carichi di lavoro anche su altri cloud provider esterni. Per quanto riguarda infine la governance dei sistemi, diciamo che con tutto quello che abbiamo visto abbiamo maggiore controllo per quello che riguarda l'evoluzione. Abbiamo un utilizzo ottimizzato delle risorse, nel senso che le utilizzo in modo denso e Kubernetes si occupa di sfruttare al massimo il mio parco macchine all'interno della mia infrastruttura. Abbiamo visto oggi come principalmente uno sviluppatore interagisce con il cluster ma di fatto con Kubernetes abbiamo un linguaggio comune tra sviluppo e operation quando si parla anche di distribuire regole di sicurezza e mettere in sicurezza il cluster per quanto riguarda l'accesso degli utenti al sistema e anche la comunicazione tra le diverse parti dei sistemi all'interno del cluster. Detto così sembra semplice, abbiamo visto la parte di sviluppo, cosa manca? Questo è il panorama, il landscape della CNCF e Kubernetes è un piccolo quadratino all'interno di tutte queste tecnologie open source che se abbinate a Kubernetes nel modo giusto permettono effettivamente di avere uno standard di base di governance che comprende l'orchestrazione di microservizi, strumenti di DevOps, strumenti di monitoraggio, API gateway, controllo del traffico. Quindi la sfida nel gestire Kubernetes è proprio scegliere gli strumenti giusti per costruire una piattaforma governabile. Mia platform è un esempio di come questo è stato fatto perché hanno corredato Kubernetes di una serie di strumenti open source che la rendano veramente produttiva per chi la utilizza nel minor tempo possibile. Vi ringrazio. Grazie Enrico, veramente molto interessante. Mi è venuta in mente subito una domanda, ma un'azienda che intende adottare questa tecnologia, secondo te quali sono i primi passi che deve fare per applicarla? Ok, ok. Allora direi prima di tutto di valutare l'utilità di Kubernetes all'interno del proprio sistema da due punti di vista. Dal punto di vista applicativo, nel senso ho applicativi che fanno fatica a evolvere, applicativi che fanno fatica a essere aggiornati, a scalare, magari voglio anche scalare una sola funzione del business e magari voglio evolvere verso una architettura più moderna, allora Kubernetes come gestore di sistemi distribuiti, in particolare microservizi, è l'ideale per gestire questa situazione. Dal punto di vista delle risorse e della gestione del cluster abbiamo visto come di fatto abbiamo un utilizzo denso delle risorse e ottimizzato, ma anche abbiamo una base per costruire delle pollici e dare delle linee guida a tutto quello che è il processo di sviluppo, a partire dalla build fino al deploy in produzione. Ora, considerate queste domande, cosa devo fare per iniziare? Inizio, mi piace Kubernetes, cerco di portare e di scegliere un sistema critico, un applicativo critico per il business e portarlo anche in versione monolitica all'interno del sistema. Kubernetes fa rima con i microservizi, ma non è necessario da subito avere un'architettura così modulare, ma è possibile di fatto portando il primo possibile i nostri servizi dentro Kubernetes iniziare ad evolverla con gli strumenti giusti per farlo. Detto questo, la sfida maggiore è anche capire e scegliere in fretta chi gestirà fisicamente il cluster. Quindi abbiamo visto i benefici che ha in termini di evolvibilità per lo sviluppo. La vera sfida si ha in produzione quando ho da gestire il cluster e avere a disposizione un'infrastruttura stabile e performante. Ci sono diversi scenari in questo caso. Il più difficile per l'azienda è quello di approcciare il Kubernetes open source e gestirselo da soli, ma probabilmente l'avere le conoscenze in casa per la gestione di un cluster Kubernetes non crea vantaggio competitivo se pareciamo il business. Passare invece a soluzioni gestite, quindi cluster gestiti, permette di concentrarsi su quello che è il vero core del business e cioè le applicazioni, come far evolvere le applicazioni. Infine, la difficoltà è di scegliere gli strumenti giusti per costruire questa platform. Quindi corredare Kubernetes con tutti gli strumenti che servono per essere veramente produttivi e dare una marcia in più a chi lavora in azienda operativamente. Da questo punto di vista, ripeto, mia platform ha creato un ecosistema completo di strumenti open source che consentono di arrivare il prima possibile ad avere un flusso di sviluppo ottimizzato fin da subito. Quindi da questo punto di vista mi sento di consigliare di cercare di arrivare il prima possibile ad avere una distribuzione funzionante production ready, valutare i benefici che porta Kubernetes e vedere a lungo termine che è un investimento che ha sicuramente senso. Bene, bene. Allora grazie tantissimo Enrico. Grazie.